Il Teatro Sociale ospita come di consueto la mostra delle bambole, quest'anno dedicata ad un tema particolare che poi vedremo di approfondire. La signora Mariuccia come al solito si è data da fare per diversi mesi all'anno per allestire una mostra sicuramente apprezzabile. Parliamone, ecco, come è nata l'idea tra l'altro di creare una sorta di villaggio africano all'interno del teatro? Dunque, è nata l'anno scorso dall'idea del debito estero, come collaborare per pagare questi debiti e aiutare queste persone. Allora abbiamo pensato, perché non fare un villaggio africano? Il villaggio africano però poneva anche dei problemi, dove trovare tante bambole nere, perché le bambole nere non se ne trovano. Però con l'aiuto di parecchie amiche e le visite ai mercatini della zona, siamo riusciti a mettere insieme più di 60 bambole. Alcune sono bambole tipiche del Senegal, che abbiamo preso da un senegalese e niente, siamo riusciti a realizzare un sogno. Magari non è completo questo sogno, perché io avevo pensato anche ad altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad arrivare a tutto. Però mi sembra che l'effetto sia buono, desiderato e arrivato, con la speranza poi che sia apprezzato e che dia i suoi frutti. Ecco, comunque noi chiediamo alla gente, anche se non vogliono o non desiderano comprare una bambola, abbiamo messo anche la capanna della solidarietà. Ecco, tutti i soldi che verranno raccolti da questa vendita verranno dati ai missionari africani. Uno di questi è Don Silvio di Rezzago, che è stato missionario in Zambia. Poi a Padre Ernesto, che è un missionario della Consolata di Bevera. E poi alla Rosanna Prandi, che anche se non è una missionaria che va in Africa, ma in Ecuador. Infatti lì abbiamo le bambole che ci ha portato lei dall'Equador, è giusto ricordarla. E qualcosa, senz'altro, anche a Don Augusto Bindelli, che ha problemi. Mi sembra anche lui per allestire una radio, una tele locale, per aiutare la gente lì del posto. Ecco, basta. Di grossi progetti, anche grazie al contributo del gruppo missionario. Ecco, senz'altro. Adesso aspettiamo la gente. E qui invitiamo proprio tutti a visitare e a dare il loro contributo, piccolo o grande che sia. Ci sono bambole da tutti i prezzi, si parte dalle 10.000, vabbè, poi si sale, si sale anche di molto per le bambole antiche. Diciamo qualche rarità. Eh, rarità. Ce ne sono. C'è una bambola furga del 1908, un'altra del 1920. Sono bambole antiche, sono bambole per collezioniste e per chi ama questo tipo di bambola. Anche quella bambola è del 1910-14, non hanno saputo stabilire bene la data precisa. E poi quest'anno ci sono quattro simpatici alpini che stanno cantando dopo aver ampiamente bevuto, magari birra o vino. Ecco, poi tutto il resto è originale, cominciando dai nonni e da tutte le altre bambole. Ce ne sono di tutti i tipi. Devo dire che quest'anno le bambole sono arrivate da tutta Italia, ma anche dall'estero, dal Lussemburgo e dal Belgio. Perché abbiamo rimesso ancora l'annuncio su famiglia cristiana. E la gente ha accolto. Io a casa ho ancora un migliaio di bambole da vestire. Quante bambole ha? Guarda, sinceramente non lo so. Non lo so in sette anni quante ne abbiamo vestite e quante ne ho ancora da rivestire. Qui ce ne sono 200, no, 250-300 circa. Ecco, i 60 di quelle nere. C'è materiale per tante altre mostre di questo genere. Allora, a casa un migliaio, mi dica lei che cosa... Fin quando andremo avanti? Finché posso lo farò. Senz'altro. E poi, vabbè, se c'è qualcuno che mi sostituirà, perché ci vorrebbe qualcuno in più che aiuta a proprio cucire i vestiti e a rifare le bambole. Perché noi le bambole le danno che sono completamente da rifare. Ecco, dai corpi ingottiti vanno rifatti tutti, vanno disinfettati, vanno lavate e poi rivestite. Ringraziamenti, naturalmente, a chi le sta dando una mano? Dunque, io ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano per trovare le bambole nere. In modo particolare, la signora Eliana di Cantù, che è una collezionista. È una collezionista, però non pensa solo se stessa, ma anche ad aiutare le missioni. Infatti, lei si è offerta anche di venire qualche giorno ad aiutare qui, perché è 15 giorni di mostra, insomma, impegnativo. E poi devo ringraziare la signora Antonia, le mie figlie, mio marito, tutti i parenti, Dorotea, i nipoti, eccetera, perché mi hanno dato tutti una mano. Anche se magari qualche volta poi mi arrabbiavo un po', però perché l'idea nasce dalla persona. La persona vorrebbe vedere l'idea sviluppata in un determinato modo, no? E magari poi ci sono delle divergenze, però io spero che l'effetto desiderato da me sia apprezzato dagli altri. Ecco, basta. Grazie.